La Serie A1 della pallavolo femminile 2-0-2-2-2-0-2-3 è giunta alla sua serata decisiva. La partita in programma alle 20.50 al Palaverde deciderà chi tra Imoco Conegliano e vero volley Milano sarà il campione di Italia. L Imoco campione in carica e a caccia del sesto scudetto della sua storia, il quinto di fila, mentre il Milan vuole vincere lo scudetto per la prima volta. Conegliano ha perfettamente sostituito l'ex Stella Paola Egonu con l'opposto Isabella, ben supportata dalle schiacciatrici Kelsey Robinson e Katrin Plummer, con Joanna Wolos al timone. Il Milan risponde alla collaudata formazione veneta con l'opposto Jordan Thompson, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Larson e Silla.